Mi chiamo Ezio Colanzi, ho 38 anni e non ho mai fatto niente in vita mia. Voglio scrivere un film, meglio, un film d'autore, che però in cassa mancherebbe l'idea, ma fa niente. Per favore, per favore, mi devo concentrare, non posso avere la gente addosso qua? Via, dai, via tu. Hai ragione. Vai, ti taglio dal film, sparisci, eh? Siamo quello che si dice una famiglia felice. Vincenzo, io mi voglio sposare. Ma sei che avresti? Non ci si sposa a 16 anni? E di qualcosa anche tu. E dammi quella canna che stiamo parlando. Ma che ti rilascio un po'. Ah, ma sei Ezio? Sei quello dell'incidente, no? Che sfiga che hai avuto. Che figa che sei. È pronto? Simpatica la vecchia. Veramente sarebbe la mia mamma. Ecco il primo. Tagliorini, gamberi e funghi. È completamente andata. Ma tu, chi sei? Lucia, stai buono. Non ti preoccupare, senti l'odore del mio. Del tuo? Un cane, del mio cane, un cane, si chiama Gianni. Ecco il primo. Ho fatto i tagliolini, gamberi e funghi. Mi era sembrato di capire che ero io la protagonista femminile, ma la storia della cinese, ma che c'entra? No, 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 no. Potrei andare avanti a raccontare questa storia, ma preferisco chiudere qui. Andiamo. Not пол. Danilo. No. 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 Grazie a tutti